La concordo appieno con la classificazione che ha presentato. Questi sono i miei interessi finanziari. Penso di poter parlare degli errori perché li ho commessi tutti, molte volte. La cheratite erpetica è un problema notevole e dobbiamo affrontarlo. Il primo errore di cui voglio parlarvi ha a che vedere con quanto ha detto il dottor Sarnicola, cioè non comprendere la diagnosi clinica corretta. Questa è la classificazione che risale al 1999 e poi è stata aggiornata nel 2017. Sicuramente non è una diagnosi cheratite da herpes simplex, è più un occhio rosso. Dobbiamo capire che cosa succede per comprendere poi a livello terapeutico cosa fare. Ognuna di queste diagnosi dovrebbe seguire poi una categoria, per esempio cheratite infettiva, mappa geografica o dendritica. Quindi vi dovrebbe essere un'ulteriore aggettivazione per poter precisare la diagnosi. Per esempio anche la cheratite stromale immunitaria e questa è l'endotelite. Quindi bisogna etichettare ciascuno di questi casi andando oltre la cheratite erpetica perché altrimenti si possono commettere degli errori. Un altro errore è l'uso di antivirali topici. Sicuramente abbiamo la trifloridina, il ganciclovir, la ciclovir. Quelli per uso topico sono raramente utilizzati per le cheratite dendritiche. Spesso si passa a delle forme neurotrofiche. Ma continuiamo con questi trattamenti per settimane, ad eccezione dei pazienti immunocompromessi in cui ci possono essere dei ceppi resistenti. Quindi se trattiamo una lesione topica oltre i 10 giorni, anche se ha un pattern adrentitico, ripensate alla vostra diagnosi perché molto probabilmente si tratterà di una cheratopatia neurotrofica. Dobbiamo cambiare terapia e fare delle cose anche per migliorare la superficie ocolare. Quindi parliamo di epiteliopatia dendritica che ritroviamo. In qualunque ulcera dendritica qui abbiamo un negative stain. Vedete, questa può avere un aspetto a cartina geografica, ma è una forma neurotrofica. I farmaci ad uso topico non miglioreranno la situazione. Un altro errore è evitare gli steroidi topici per l'infiammazione, soprattutto all'inizio. Sicuramente dobbiamo tenere presente che questi pazienti vanno avanti per settimane con l'infiammazione e vediamo una reazione ecologistica anche nello stroma. La vediamo qui, la vediamo qui. La reazione poi assume un aspetto dendritico. Anche in questi casi dobbiamo fare in modo che i pazienti possano avere un intervento più precoce. Qui abbiamo un'ulcera dendritica non trattata con steroidi che poi due mesi dopo ha una cicatrice e un visus ridotto. Quindi non dobbiamo usare gli steroidi per lesioni infettive attive, però tutte quelle dendritiche vanno invece trattate con steroidi topici. Quindi prendetele in considerazione. Dobbiamo evitarli per le lesioni infettive attive, ma dobbiamo tenerli in presente quando c'è una lesione dendritica. Un errore numero quattro è un utilizzo non sufficiente di antivirali per osso. Molti pazienti che vengono trattati solo con farmaci per uso topico sviluppano poi delle complicanze. È chiaro che gli antivirali vanno usati nella malattia attiva. Il dottor Sarnicola ha parlato anche della profilassi. Quando c'è un'infezione dobbiamo intervenire con gli antivirali per osso. In tutti i casi di endotelite, di iridociclite, dobbiamo prendere in considerazione le complicanze endoteliali. Qui abbiamo un'endotelite lineare con delle cellule endoteliali complomesse. L'iridociclite, qui la vediamo spesso nelle lesioni infettive nella camera anteriore, oltre agli steroidi per uso topico, abbiamo bisogno di antivirali per osso. Io suggerisco che si utilizzino in tutti i casi di cheratite epiteliale infettiva e poi dobbiamo utilizzarli in pazienti immunocompromessi perché c'è rischio di diffusione sistemica nei bambini con cheratite o veite. È molto difficile che i bambini possano davvero utilizzare dei farmaci per uso topico, quindi dobbiamo usare gli antivirali per osso sistemici. Sicuramente poi per la profilassi, qualunque paziente faccia una cheratoplastica deve essere poi sotto copertura antivirale. Per i pazienti monoculari con herpes simplex frequente o ricorrente e dove poi vi sono recidive nei bambini in particolare. Spesso i bambini poi a scuola sono difficili da gestire, dobbiamo evitare le recidive. Se non li si usa per tutte le lesioni infettive però prendiamole in considerazione quando vi sono delle recidive frequenti. Un altro errore è l'interruzione della terapia a base di steroidi topici. Sicuramente vi sono dei vantaggi con gli steroidi. Per esempio sono efficaci per trattare l'infiammazione intraocolare corneale, per ridurre le cicatrici corneali e ridurre le complicanze dell'infiammazione come il glaucoma secondario, lo strumento più potente che abbiamo per mantenere la cornea chiara. Abbiamo pazienti che arrivano con un'infiammazione corneale. L'obiettivo è quello di interrompere gli steroidi quanto prima. Io dico che non bisogna interromperli troppo presto, onde evitare di portare il paziente a una recidiva perché ogni volta che c'è una recidiva vi sono dei cambiamenti a livello dello stroma che portano poi anche a una perdita del visus. In questo caso, per esempio, nel paziente abbiamo avuto una serie di recidive fino a 5. Poi vedete abbiamo una cicatrice corneale, abbiamo un problema di vascularizzazione corneale come vediamo dalle immagini e anche una cattiva prognosi per la creatoplastica. Interrompere troppo presto gli steroidi può portare appunto a una perdita di visus e ad altre complicanze. L'argomentazione contro l'assunzione di steroidi a lungo termine è che vi possono essere infezioni secondarie, cataratta ma si può gestire più facilmente la cataratta in un paziente del genere piuttosto che una cicatrice corneale. Poi si dice che vi può essere una dipendenza dagli steroidi. È chiaro, in realtà bisogna tenere presente che bisogna compensare il rischio di cicatrice corneale e di dipendenza da steroidi. Se non usiamo gli steroidi si finisce con l'avere una cicatrice corneale e comunque questi pazienti finiranno con l'avere una cataratta, un glaucoma e comunque dovranno assumere steroidi. È più facile gestire la cataratta, l'aumento della pressione endocolare. La cosa peggiore che può accadere in un paziente del genere è sottotrattarlo e far sì che si sviluppi una scara, una cicatrice. Quindi vi può essere una dose di attacco, una dose che si può dare in acuto ma anche una dose che si può dare in cronico. Non c'è bisogno di continuare con una dose di attacco per tanti mesi. Si può ridurre poi la dose di steroidi se si decide di portare avanti il trattamento per molto tempo. E poi l'errore numero 6, sottotrattare la cheratopatia neurotrofica. Che cosa succede? Non c'è bisogno di un'ulcera piena, pieno titolo per avere una perdita di virus. Se non affrontiamo il problema nel suo complesso, alla fine si può avere una perdita di virus comunque anche da un'ulcera o da una lesione lieve. Quindi bisogna intervenire, bisogna fare qualcosa per migliorare la superficie, possiamo eventualmente interrompere l'assunzione di farmaci per uso topico che hanno un effetto tossico, oppure fare altre cose, anche una tarsorafia. Se è persistente dobbiamo affrontare il problema. Riassumendo, vi sono delle perle che posso elargirvi in merito alla gestione della cheratite erpetica. Innanzitutto bisogna capire esattamente come poi etichettare una diagnosi molto generica che è quella di cheratite erpetica. E poi bisogna in qualche modo intervenire a livello di uso di antivirali per os, avere fiducia nell'utilizzo degli steroidi per lungo termine. E' meglio usarne di più che di meno e bisogna affrontare la cheratopatia neurotrofica, oltre che limitare eventualmente l'uso di antivirali per uso topico. Grazie.